Ciao ragazzi e ragazze, il video di oggi dopo due ore di diretta su 12022 sono un po' provata ma mi riprometto di parlare in maniera più ampia di questo argomento, sto continuando a rimandare robe di cui parlare ma lo farò nei prossimi giorni. E' morta un'icona del fashion, del design, un'icona della cultura, possiamo dire pop, una figura che ha stoganato lo streetwear, lo stile anche un po' casual, un po' sportivo nel mondo del lusso. Questa persona è Vielgil Abloh, un designer assolutamente rispettato, forse il più famoso vivente fino a qualche giorno fa e che ha segnato lo spirito di più di una generazione. Abloh in realtà è un millennial però è un punto di riferimento anche per i Gen Z. Perché è importante parlare della figura di Abloh? Perché Abloh è uno che ha sempre fatto tutto per lasciare un marchio generazionale e culturale nel mondo, che fosse il proprio ma non necessariamente il proprio, che rappresentasse lo spirito del momento, lo zeitgeist, avrebbero detto i romantici. Abloh lascia in eredità qualcosa di molto importante nel mondo del lavoro e del fare impresa di oggi e nella vita in generale delle persone, che è questo. La creatività vince, la creatività è ciò che non ci rende persone creative, perché è facile dire che un designer è una persona creativa, ma che effettivamente ci differenzia dagli altri, anche se il nostro lavoro non è esclusivamente un lavoro fatto di creatività, ma non lo è nessuno, ma tutti i lavori hanno creatività all'interno, soprattutto se riusciamo a costruirla. Quello che credo è fondamentale da questo punto di vista è rilevare come Abloh abbia fatto della propria creatività una rappresentazione di una moltitudine pazzesca, che non si è mai confinata a una singola cosa. È un esempio che parla di come chi punta su questa competenza poi venga ricordato, e lasci, quello che alla fine è importante, un'eredità che forse lascia al mondo leggermente migliore, nel caso di Abloh direi leggermente meno ricco di giudizio, più povero di giudizio, di colpa, come diciamo sempre su uno passanada, e un pochino più inclusivo. È una figura che io ho sempre seguito da distante, non ho mai potuto conoscere, ma che sono felice di poter portare su questo canale con questo ricordo, perché ce ne sono tante così fuori e hanno bisogno di un megafono. È ora di smetterla di rimpicciolirci, quando come avrebbe detto qualcuno conteniamo moltitudini, e invece che dire che le sue creazioni ci piacciono o meno, invece che condividere un rip sul nostro profilo, ragioniamo veramente su che cosa ha lasciato questa persona, e sul fatto che tutti noi nella nostra vita possiamo imitarlo e creare qualcosa di positivo. Stop whining!